In breve, professor Severino, che cos'è questo suo nuovo libro, Il parricidio mancato? Innanzitutto penso che si debba ricordare che il padre è Parmenide, il padre che viene ucciso è Parmenide. L'espressione parricidio è usata da Platone. Per essere semplici, o il più possibilmente semplici, la posta in gioco è formidabile. A parte il fatto che Parmenide è stato trattato da pensiero filosofico in modo diverso da come sono trattati gli altri, Aristotele che è sempre così cauto di Parmenide dice che è folle. Parmenide è il folle, di nessun altro Aristotele l'ha detto, di nessun altro filosofo. E Platone usa questa espressione da capo a proposito di Parmenide, parricidio. Già qui il linguaggio forte indica che c'è qualcosa di un gioco essenziale sotto che si scopre con le parole inusitate. Ebbene, dicevo, con questo padre folle, così considerato dal pensiero occidentale, il mondo viene negato. Cioè, la follia consiste in questo, il mondo non c'è, il mondo è illusione. E allora, quando il pensiero filosofico si rende conto della forza degli argomenti usati da Parmenide per negare il mondo, ecco che allora bisogna uccidere il padre. E tutta la filosofia greca, la grande filosofia greca, è questa uccisione del padre per salvare il mondo. Tra Parmenide e Platone c'è di mezzo l'episodio più significativo, cioè la prima forma di parricidio, che è quella tentata da Empedocle. E allora il titolo, dice, il parricidio mancato perché Empedocle, che è il primo, non bisogna dimenticare che Empedocle è il primo filosofo a cimentarsi contro questo padre folle che negava il mondo. E Empedocle, in questo suo tentativo di salvare il mondo, fallisce. Di qui allora la necessità di un secondo radicale parricidio. Però vorrei dire che quando io ho consegnato a Delphi questo libro, io avevo dato un altro titolo, perché questo è il titolo di un capitolo del libro. Io avevo dato un altro titolo che a me sembrava più bello e che ci tengo a ricordare, che è ricordato nell'avvertenza del libro, è un'espressione di Empedocle, guarda i testimoni, perché i testimoni sarebbero appunto coloro che testimoniano l'esistenza del mondo. E allora bisogna rivolgersi ad essi per salvare il mondo. Era certo, un bel titolo però di minor presa, diciamo, sul pubblico e sul lettore. Forse di minor presa. Comunque qui il parricidio non ha nulla a che vedere col parricidio psicoanalitico. Anche se il parricidio psicoanalitico ha necessariamente a che fare con questa forma di parricidio, perché si può operare a livello psicologico solo se si vive nel mondo. La grande impresa del pensiero filosofico post-parmenideo è stata appunto quella di preparare lo spazio all'interno del quale potessero avvenire tutte le altre forme di parricidio, quella psicoanalitica compresa. Ecco, professor Severino, il nucleo del suo pensiero, della sua teoria filosofica, può essere così enunciato, cito da un articolo di Carlos Sini. Tutto è eternamente e solo per fallace opinione noi mortali crediamo che le cose vengano e vadano dal nulla, nascano e muoiono, si creino e poi fatalmente per sempre si distruggono. Da questa affermazione discendono una serie di colorlari tra cui quello che l'Occidente è il mondo dell'alienazione più abissale e della filosofia e della follia essenziale. O mi sbaglio? No, no, è sostanzialmente esatto. Certo che in questo tipo di discorsi l'importante, l'essenziale è la giustificazione di quello che si dice, perché altrimenti sono delle tesi che lasciano il tempo che trovano, sono dei miti, dei miti. Invece, e qui la difficoltà essenziale del pensiero filosofico, o in genere del pensiero razionale, un discorso è anche interessante in relazione alla forza degli argomenti che lo sostengono. Vorrei dire che il motivo per il quale la fede di tutti gli abitatori dell'Occidente, cioè la fede nell'esistenza della storia, del divenire e del tempo, il motivo per il quale questa fede è la follia essenziale, ecco, dico, il motivo è che la convinzione nell'esistenza, la fede, la volontà che il divenire esista, è legata con necessità alla persuasione che le cose, il cielo, la terra, gli astri, gli animali, gli uomini, le donne, ecco, è legata con necessità alla persuasione che le cose siano niente. Ecco, allora è qui il punto decisivo, cioè se noi avessimo a che fare con una persona la quale è convinta che la sua donna, la sua casa, il suo campo sono niente, noi di costui diremmo che è folla, che è radicalmente folla, è una forma di follia tra l'altro che Lange conosceva, e quello che invece la nostra cultura per Costituzione non sa è che questa follia che noi attribuiamo al malato mentale, a un certo tipo di malato mentale, è il credere che le cose siano niente, questa follia invece è legata con necessità alla fede di fondo in cui cresce la civiltà occidentale, cioè quella fede di cui prima dicevo, che è la convinzione che la realtà sia storia, tempo, divenire, processo, uscire e ritornare nel niente, come diceva lei. Ecco, invece lei, schematizziamo al massimo evidentemente, sostiene che esistono gli enti e che il divenire appunto non esiste. Preferisco dire che non sono io a sostenerlo, perché se lo fossi io a sostenere non avrebbe nessun valore, preferisco dire che si sostiene il discorso, si sostiene. Certo, lei può, o almeno un interlocutore, può credere che ci si trovi di fronte alla negazione ingenua della variazione dello spettacolo del mondo, ma non si tratta di questo, che il mondo vari, questo è l'indiscutibile. Ciò che invece è in questione è il senso di questa variazione. La variazione dello spettacolo è stata sempre intesa, incominciando da Parmenide appunto, è sempre stata intesa come nascita e morte. Lei ricordava prima quel passo di Sini, appunto come l'uscire delle cose e il ricordare nel niente. Penso che anche se a lei domandassi se è convinto che tutte le cose che ad avanti siano sempre state, lei risponderebbe come ogni nostro ascoltatore, risponderebbe no, andando indietro c'è un momento in cui questo nostro mondo o ampie falde di questo nostro mondo sono state niente. Penso che chiunque oggi risponderebbe così, anzi la cultura dominante è quella che non riconosce altra realtà che quella che a un certo momento arretrando è stata niente e che a un certo momento progredendo ritornerà ad essere niente. Ecco, questa fede di fondo dell'Occidente è anche il fondamento dell'angoscia perché ancora noi non siamo, noi dico gli abitatori dell'Occidente non sono in grado di misurare la forza del rapporto che c'è tra coscienza del niente e angoscia.